Longin Spirit, l'eccellenza dell'orologeria Nell'universo raffinato dell'orologeria, il modello da polso, Spirit, si erge come un emblema di stile intramontabile e prestazioni di altissimo livello. Spirit è molto più di un semplice orologio da polso. È un simbolo di stile senza tempo che cattura l'essenza dell'eleganza e dell'autenticità. Il suo design distintivo è caratterizzato da linee pulite, materiali pregiati e dettagli raffinati. Spirit rappresenta una fusione armoniosa tra estetica e funzionalità, riflettendo l'impegno per l'eccellenza artigianale. La storia di Spirit è intrecciata con l'innovazione tecnologica e la dedizione alla precisione. Il modello è stato creato per soddisfare le esigenze di coloro che cercano un orologio che trascenda il tempo, garantendo al contempo prestazioni di altissimo livello. I meccanismi interni di Spirit sono stati progettati con la massima attenzione ai dettagli, garantendo una precisione senza pari nella misurazione del tempo. Numerose celebrità di fama mondiale hanno scelto di indossare Spirit per esprimere il loro stile distintivo e il loro gusto raffinato. L'orologio è diventato un simbolo di prestigio e raffinatezza, indossato da icone provenienti da diverse sfere dell'intrattenimento e del mondo degli affari. L'attrazione per lo spirito di eleganza e innovazione di questo orologio ha attirato l'attenzione di coloro che apprezzano la fusione tra tradizione e modernità. Spirit ha spesso segnato nuovi record nel campo delle prestazioni orologere. La sua capacità di mantenere l'accuratezza del tempo in varie situazioni e ambienti ne ha fatto una scelta popolare tra gli appassionati di orologeria e gli esperti del settore. Questi orologi si sono guadagnati una reputazione di affidabilità e prestazioni straordinarie. In sintesi, Spirit è molto più di un semplice orologio, è l'incarnazione dell'arte orologera e della dedizione all'eccellenza. Il suo design senza tempo, le prestazioni eccezionali e la scelta di celebrità di spicco ne fanno un simbolo di status e raffinatezza. Scegliere di indossare un orologio Spirit è un'affermazione di gusto e passione per l'arte dell'orologeria, una dichiarazione di eleganza senza tempo.